Ciao a tutti ragazzi da Nicola Castiglione e oggi in esclusiva abbiamo Matteo Matteo Tobi e là siamo saltati da un video all'altro alla velocità della luce dunque 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 se già ci avete seguito di là sapete com'è finita o se avete seguito le qualifiche io volevo fare un po' di considerazioni qui post qualifiche innanzitutto però come da prassi lanciamo la sigla e poi noi ci asciughiamo la fonte perché comunque inizia a fare caldo con tutte queste luci puntate il maglioncino rosso voglio dire però non lo tolgo facciamo una buona stagione me lo metto persino ad agosto però lanciamo la sigla e poi iniziamo con tutte le considerazioni perché la pole l'abbiamo persa in due momenti precisi a causa di due cose e mezza io direi quindi andiamo a guardare un attimino quello che anzi no prima la sigla poi i tempi e poi le considerazioni sigla e allora ciao a tutti ormai abitiamo su youtube anche tu sei ospite di questa è come dire di questo bel gruppo che abbiamo sia qua che là sta diventando qualcosa di veramente meraviglioso questa due giorni di live assieme a voi vi volevo ringraziare è stato qualcosa di incredibile perché ci stiamo divertendo veramente veramente tanto ma al di là di questo al di là di questo un po' da mare in bocca resta per quello che abbiamo vissuto cioè la pole l'abbiamo proprio ce l'hanno fatta annusare e poi te l'hanno tolta nel momento più bello però ci sta per farci tornare un pochino sul pianeta terra perché sennò già domani volevamo da subito la prima vittoria invece credetemi ragazzi ancora i tempi non sono maturi abbiamo un Verstappen veloce perché la vettura è veloce come vedete torna umano anche lui quando è in mezzo agli altri quando è in difficoltà però quando lui torna umano ragazzi ci pensa un certo lambiase a diventare Superman e adesso vi spiego il perché però prima di questo c'è Matteo che vuole dirvi una cosa vai Matteo allora ragazzi prima di iniziare con tutto quanto vi chiedo di lasciare un like a questo video di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi nessun video bene grazie Matteo non l'ho tenuto qua per dire solo questo poi più tardi gli facciamo pure qualche domanda anche fuori da quello che è il contesto F1 certo d'accordo anche perché stasera parto un video particolare però adesso andiamo sui tempi vediamo i tempi per chi non ha seguito le prove Max Verstappen pole position con uno ma che tempi sono questi? sì sono quelli giusti con uno ventinove stavo leggendo la prima colonna invece il primo colonna è Q1 poi andiamo ecco è qui è il caso di tirare fuori la manina perché devo farvi vedere una cosa allora il tempo di riferimento è questo uno ventinove centosettantanove guardate Charles Leclerc che tempo aveva fatto in Q2 non è male non è affatto male sarebbe stato in pole position va sicuro che la pista non è peggiorata e poi questo è il tempo che Max ha fatto senza scia perché in Q2 non ha preso scia questo è il tempo che ha fatto con la scia perché in Q2 ha preso la scia due bei decimi di vantaggio che tradotto in soldoni non sarebbe stata comunque pole questo giro ma c'è anche un altro motivo perché ragazzi se non abbiamo fatto la pole ancora una volta lo dobbiamo a un componente del team che io ancora individuo mi dispiace dirlo perché non mi piace tirare addosso a nessuno ma è l'anello debole Xavi Marcos è l'anello debole guardate un po' cosa ha fatto l'ambiase in coadiuvato dal pilota ovviamente in Q3 ha mandato Verstappen in pista nel momento giusto attenti non è il pilota che sceglie quando andare in pista è l'ingegnere di pista che decide quando ti deve mandare in pista perché lui non sta con te in macchina non sta con te il box sta al muretto ha tutto il quadro della situazione ed è lui che ti dice va in pista adesso e così come aveva fatto in Q1 se non sbaglio lui si va a piazzare e prende una scia mostruosa della McLaren di Oscar Piastri gliela tira Piastri si sposta lui qui esce il campione gli va a succhiare ancora qualche altro metro e poi va di là ha preso più di 10 km tradotto in soldoni sono due decimi ragazzi lasciate perdere il decimo e mezzo sono due decimi ma anche fosse stato un decimo e mezzo è un distacco preso dalla pole position più che sufficiente noi dall'altro lato invece che cosa abbiamo avuto abbiamo avuto Xavi Marcos che non solo non ha messo in pista nel momento giusto Leclerc per fargli prendere una scia da questo punto di vista ragazzi svegliamoci svegliamoci anche perché il pilota ha bisogno di essere messo soprattutto con le nuove regole in un determinato punto perché non puoi andare troppo piano devi rispettare come vi ho spiegato in un video dei tempi X nei microsettori però devi anche andare neanche troppo forte per raggiungere quello davanti in quanto se no cuoci le gomme le gomme non ti durano nel massimo del rendimento fino a curva 15 quindi sei costretto poi a tenere quell'andatura lì ebbene Xavi Marcos dove ha sbagliato in questo e poi ha sbagliato quando in Q1 e non ce n'era bisogno ha fatto uscire un Leclerc che non voleva uscire e non doveva uscire a mio avviso l'ha fatto uscire con un secondo set di gomme nuove l'unico a fare un tentativo di questo tipo che alla fine dei conti lo ha danneggiato perché poi quel set di gomme per avere due set di gomme nuove credo in gara cosa ha fatto se l'è portato in Q3 perché in Q2 è uscito con un set di gomme usate e poi con un set di gomme nuove dove ha ottenuto la pole simbolica del weekend il giro più veloce però poi cosa succede che tu interrompi una sequenza di ritmo perché di solito l'ultimo tentativo della Q2 lo fai con gomme nuove poi il primo della Q3 lo fai con gomme nuove il secondo della Q3 lo fai tirando fuori tutto tutto ebbene questo non ce l'ha avuto con sommato la scia abbiamo perso la pole lui l'ha detto l'ha detto nell'intervista che vi ho fatto ascoltare praticamente ha detto ragazzi quel salto gomma usata e poi di nuovo gomma nuova mi ha tolto un po' il ritmo infatti lui non era affatto contento non del secondo posto ma bensì del giro del suo giro ci deve essere stata qualche piccola sbavatura ma io credo più che qualche sbavatura anche una condotta non alla Leclerc in qualifica cioè over the limit quindi questo penso sia successo poi andiamo invece ai tempi degli altri perché abbiamo un George Russell che si trova forse dove non doveva trovarsi in terza posizione quindi bravo lui Sainz manca ancora una volta quel decimo dal compagno di squadra che lo avrebbe messo in seconda o terza posizione quindi come al solito solido in tutte le prove però poi nel momento decisivo manca un po' Perez si prende la bellezza di tre decimi e mezzo da Best Happen però lui non ha l'ambiase al muretto e quindi succede che a lui la scia non va bene il distacco nel suo caso è un decimo e mezzo è più che accettabile considerando che corre in un team tutto rivolto a quell'altro pilota poi ancora abbiamo qui è pazzesco perché abbiamo Alonso sempre a tre decimi e mezzo cioè a tre decimi abbiamo Russell Sainz Perez Alonso poi Lando Norris che invece ha quattro decimi quasi e mezzo Oscar Piastri subito dietro a cinque decimi poi Lewis Hamilton che si becca bei due decimi dal proprio compagno di squadra e quindi cinque decimi quasi e mezzo è un incredibile Hulkenberg che se ne è fregato di girare in Q3 è entrato giusto per un'ora di firma con gomme usate però ha piazzato la vettura in Q3 ancora una volta e se dovesse avere una vettura che tratta bene le gomme potrebbe anche come dire riuscire a portare la vettura in zona punti andiamo a vedere tutti gli altri e poi concludiamo dicendo una cosa Allora Zunoda undicesimo Stroll 12 eh non bene P13 per Albon P14 per Ricciardo che se ha delle ambizioni deve assolutamente finire davanti il compagno di squadra 15 Kevin Magnussen poi Bottas Juan Yujo Serjan e guardate un po' in ultima fina Fanalino di Coda Esteban Ogon e Pierre Gasly ricordate quando ci fu la presentazione dell'Alpine i due piloti avevano una faccia veramente brutta un po' come la nostra quando Verstappen ha fatto la pole position un poco fa perché porca miseria noi è vero diciamo vogliamo una gran gara credo che domani Verstappen se parte davanti difficilmente verrà impensierito però vogliamo una Ferrari che gli sta attaccata questa è la speranza che abbiamo tutti noi anche se secondo me ancora tre decimi a tre decimi qualcosina sul passo gara paghiamo però non partiamo dal secondo pass dell'anno scorso e ricordo a tutti che l'anno scorso un certo recupero durante la stagione l'abbiamo fatto e poi questa è una pista dove sul passo gara non sul giro veloce sul passo gara l'anno scorso le abbiamo prese di brutto di brutto vedremo cosa succederà domani poi cos'altro aggiungere da questa analisi post qualifica abbiamo visto un Lewis Hamilton a un futuro Toyota Ferrari prendere la paga dal suo compagno di squadra però secondo me adesso in Mercedes un po' meno una mano gliela danno rispetto rispetto a prima e poi abbiamo visto il solito Leclerc ragazzi combattivo in tutto e per tutto mi è molto piaciuto quando ha mandato a quel paese in diretta mondiale il proprio ingegnere di pista perché se lo meritava faccio un appello a Vasser affinché rimuova Marcos da ingegnere di pista lo so è anche colpa di Leclerc perché gli hanno chiesto se voleva cambiarlo ha detto di no ecco in questo deve diventare un po' figlio di bene allora Matteo divertente fare le live bellissimo spettacolare poi da parte di tutti quanti i ragazzi che ci stavano di là si vede sempre un calore un affetto enorme enorme eravamo non so quando siamo stati forse quasi mille quasi mille quasi come present time ragazzi è una cosa incredibile è una roba molto molto importante e io le ringrazio sempre ancora una volta bene allora molti si chiedono chi sei tu abbiamo detto di là ma spieghiamo anche di qua facciamogli una mini intervista però ricordiamoci che non siamo di là esatto allora non è mio figlio qualcuno ha scritto che mio figlio ha già fatto partire la lettera dall'avvocato non è mio cugino non è mio fratello è un pilota della SN1 di dove sei? io sono di Catanzaro Calabria perché non lo sapesse però ti fa cosenza no no niente sono un ragazzo di 25 anni che con un sogno è partito verso la Sicilia che poi si è trasformato e si sta trasformando in un'avventura che diventa sempre più bella racconta un po' che cos'è questo sono di partecipato a cosa? un? io ho partecipato ad un talent nel 2022 ho partecipato ad un talent dove appunto ho conosciuto all'inizio Nicola ho parlato con lui e ho iniziato ad affrontare questa sfida questo talent mi sono classificato in seconda posizione e niente poi da lì è partita l'avventura che è quella di fare tutta una stagione che si è conclusa quest'estate si è conclusa dove appunto io sono arrivato quarto quarto di categoria sì quarto di categoria però mi sono preso la diciamo ho fatto il colpaccio prendendomi la super pollo della mia categoria sì esatto e quest'anno abbiamo fatto questo piccolo salto piccolo diamolo piccolo salto di categoria siamo in SN1 light sì light ebbene questo qui per dirvi cosa ragazzi tra un po' sui nostri canali partirà un video dove vi invitiamo a inseguire la vostra passione e il vostro sogno di diventare piloti perché quel talent c'è ancora potete farlo tutti si parte veramente da cifre stupide perché pagate solo un'assicurazione giornaliera e l'ingresso in pista il pedaggio in pista stop però poi tutto il resto si può dire ve lo regaliamo noi è gratuito e da lì scopriamo nuovi talenti il primo fa la stagione completamente gratuita con noi il secondo classificato ha una gevelazione iper mega ultra stra pazzesca e non trovo altri aggettivi quindi inseguite il vostro sogno di diventare piloti perché si corre in pista e mai su strada come fanno i nostri beniamini della formula 1 già che ci siamo diamo anche qui il risultato del del WEC con la pole position fatta dalla Porsche che si conferma sfruttando un BOP non indifferente vedremo in gara poi domani davanti però ho una Toyota che era data per spacciata quindi mai dare per spacciati chi domina l'anno prima poi abbiamo un'altra Porsche e in quarta posizione la prima delle Ferrari poi ancora per quel che riguarda la formula 3 l'abbiamo detto in live lo abbiamo detto anche prima lo diciamo adesso podio per Fornaroli che come ci ha detto Manuel Rossi è di Piacenza non di Bologna come avevo detto io scusatemi e poi in formula 2 come è andato il nostro Chimi Antonelli 14esimo Birman 16esimo quindi problemi per la prema però Antonelli già davanti a Birman per la Ferrari questa non è una bella notizia però per noi italiani onestamente sì anche perché i piloti non ci mancano poi ancora c'è stata una cosa che mi hai detto che mi ha molto incuriosito ovvero test di MotoGP e udite udite il miglior tempo della Moto3 a Jerez della frontera è stato migliore di 3 decimi rispetto al giro di Alex Trevillet del 99 in sella alla 502 tempi dell'epoca questo vi fa capire quanto vadano più forte non tanto in accelerazione ma quanto in curva e anche quanto siano più facili da guidare rispetto a quelle belve selvagge che erano le MotoGP di un tempo la 500 di un tempo da non confondersi con la 500 di mo comunque bene 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 ragazzi spero che questo video semi live possiamo dire vi sia piaciuto se è così lasciate un like un commento iscrivetevi al canale attivate la campanellina non illudiamoci per domani ma speriamo in una gara come ve l'ho detta io con un Leclerc e un Sainz che stiano non troppo staccati da Verstappen voglio una gara che se la giochino anche se arrivino dietro arrivano dietro perché questo ci dà una base di partenza buona per un mondiale che potrebbe finire a Marranello se si muovono bene con gli sviluppi non dimentichiamo siamo terza forza quindi più ore in Galleria del Vento più ore al CFD quest'anno sfruttiamole ragazzi un bacio a tutti ciao da Nicola ciao da Matteo e ci vediamo al prossimo video abbiamo finito per oggi? mi sa di no per oggi no no ciao